Buongiorno e benvenuti nella cucina dell'Osteria Schovenaz. Cosa bolle in questa pentola? Ve lo svelo. Una bellissima cicala greca. La nostra cicala greca, quella pescata qui nel mare di fronte a Giovinazzo. L'odore è magnifico. Immaginate il sapore. Unico, due paccheri, due linguine, eccezionale. Chi avrà il privilegio di mangiarsi questa cicala greca? Staremo a vedere. Noi vi aspettiamo qui, nella cucina e nell'Osteria Schovenaz. Un grande abbraccio e un saluto dall'Osteciccio. Ciao amici!